Io ce l'ho profumato, l'alito, con mental. Italia 1! Buonasera, stiamo arrivando. Stiamo arrivando. Stiamo arrivando! Io sono già qua. Stiamo arrivando. Vini! Stiamo arrivando. Visitors. Visitors. Domani sera 22.55 Italia 1. Hai fatto paura, eh? Hai comprato la Punto Nuova? Si vede! Zero anticipo. Zero interessi. Zero maxirata finale e 36 minirate mensili. E oltre agli eco-incentivi statali, prezzi bloccati fino al 31 gennaio. Capo, un progetto per... Un altro, di che si tratta stavolta? Cosa ne dici di raccogli e vinci? È un'idea grande così! Le conosco, le vostre idee. Ascolta, le confezioni varranno miliardi di euro. Le confezioni? Spiegati meglio. Sì, collezionando gli incarti di Mars Twix Bounty M&M's, il fortunato estratto potrà vincere fino a 100.000 euro! Raccogli e vinci quanto vuoi tu! Oh, finalmente è una buona idea! Sì, a un grande successo ci sarà da strapparsi i capelli! E io sono già pronto! Raccogli anche tu gli snack M&M's, Mars Twix e Bounty. Impassionata lingerie, più che amore. Questi siamo noi. Facciamo spettacoli per bambini. È un po' faticoso, ma lo affrontiamo con entusiasmo e con Nutella. E proprio Nutella ci ha dato un'idea per questa sera. Lo spettacolo è andato bene, ma non c'è che un modo per rendere unica questa serata. Che mondo sarebbe senza Nutella? Se non avesse preso rinazina spray nasale, si sarebbe persa tanti piccoli piaceri. Rinazina spray nasale, respiro libero. È un medicinale base di una fazzolina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, evitare l'uso prolungato, non usare sotto i 10 anni. Tenere pulito il WC è davvero un problema. Da Via Cal una novità. Via Cal WC Gel pulisce, igienizza e aiuta a prevenire la formazione del calcare per 120 getti d'acqua. Così il WC resta brillante per tante, tante, tante volte. Fino a 120 getti d'acqua. Nuovo Via Cal WC Gel. Ah, un buon dì mitico. Buon dì buonissimo. E' gelo morbido. Per una colazione così c'è solo buon dì. La granella. MF Milano Finanza presenta Pole Position. Da sabato 25 gennaio, ogni giorno in regalo con MF Milano Finanza. San Benedetto. Tanta, tanta acqua minerale. Per rinnovare ogni giorno la primavera del corpo. San Benedetto. Più ne bevi, più ti rinnovi. Ehi, lava i capelli, non il colore. Fructis Color Resist. Il nuovo shampoo ai micro oli di frutti che lava senza lavare via il colore. Shampoo dopo shampoo, il colore dura più a lungo. I capelli mantengono la loro brillantezza. Garnier Fructis Color Resist shampoo e balsamo. E il colore resiste. Garnier. Allarme ragazzi, le forze del male minacciano il portale della fantasia. Sarà chiudo per sempre. Solo voi potete salvarlo, col vostro Kinder Sorpresa. Cercate Cyber Top, che partirà alla difesa del portale con la sua banda di amici. Riusciranno a fermare Cattivira e i suoi valori di Cattivirus? Sì! E con il Magic Code la sfida continua su internet. Solo con Cyber Top. Solo dentro Kinder Sorpresa. Modetro. Semplogica. Sigile. Do you speak micra? Li vuoi nuovi cordon bleu di pollo con patate? Allora comprateli! Nuovi cordon bleu di pollo con patate di quattro salti in padella Findus.